Allora, praticamente il forte è finito, il castello di Rumeli, la fortezza di Rumeli è finita La storiografia, cioè tramanda, sta cosa è di qua, di là, ecco questa è la fortezza fondamentalmente questa è la fortezza, eccola qua Ora, poi però bisogna vedere che, insomma, è fondamentale, ecco, perché questa fortezza è stata costruita in quattro mesi, mi sembra da aprile a settembre 1452 l'anno, ecco, 1452 sta scritto là sotto, l'anno ovviamente è quello prima della presa di Costantinopoli per quale motivo era fondamentale, poi alla fine perché questa fortezza di Rumeli faceva il paio con la fortezza, con la Anadolu, con la fortezza anatolica Ci sono persone che vanno là sopra, vabbè Sì, questa qui è la fortezza, la fortezza Anadolu, Anadolu Fortress, sta praticamente vediamo se la riesco a individuare, è stata una da una parte e una dall'altra e bloccavano, potrebbero bloccare il passaggio, ecco qua questa è la Anadolu Isari dovrebbe, non so se è tutta qua, però all'incirca è questa qua, sì è una di fronte all'altra è bello comunque, insomma, non è che fa schifo cioè, non so, è contentissimo di essere arrivato fino a qua perché questo qui era uno dei luoghi fondamentali, costruito in quattro mesi proprio per averci una sicurezza, vabbè ma d'altronde l'ha fatta Fatì adesso, prima 20 8 age